no in sostanza sto video sta venendo un po' troppo lungo però rovine glaciali no quasi va sopra si noi dobbiamo continuare ad andare giù senza fermarci vedo se sto video vali chi è che cazzo è questa povera cucciola palle ah no pelle eh 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 questi doppi sensi porci falmer di qui è passato qualcuno che ha fatto fuori qualche falmer di qua ah di qua si scende proviamo tante la ah non c'è niente ma che mi prendi per il culo si mi prende per il culo che mi prendi per lo culo lo culo allora per le fondoschiena ok c'è qualcuno che non vuole farsi vedere eccolo ah ma il ghiaccio non ho mai capito che fa forse mi rende più lento le fiamme mi creano scottature e muori prima che cadi o mi frego io addio oddio mi sono spaventato è venuta la tosse mi è venuta il falmer falmer con lo scudo che è il più debole di tutti praticamente se gli dai a raschiattà vaffanculo tu dove sei ti vengo a uccidere aspetta ah boh dai non voglio rubare tutto a tutti che poi sembra tipo un delinquente che qui neanche ci hanno un cazzo sti poveretti a fa a fa e fammer piacere a falmer piacere e muore non so se l'avete mai vista una mia esecuzione indiretta nel senso che ceppo di folletto una mia esecuzione cioè che taglio la testa con la mia mazza a qualcuno mi pare di no quindi se riesco ve la faccio vedere altrimenti ve dovete arrangiare ma perché è veramente una cosa figa ammozzare la testa fai proprio crack qui c'è ovviamente la trappola guarda 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 che che è oh è stra figo sto gioco è stra figo cattedrale di aftahad il re dei re di skyrim toryg è stato recentemente ucciso da uffrick manco della tempesta che ha usato il potere del tohum perché non mi ricordo oddio no è scappato è scappato non è successo niente non è successo niente fate finta che non avete sentito niente la mia volgarità resta la mia volgarità e qua che si fa qua ci andiamo a sperde ecco che si fa si torna giù 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 non c'è niente non c'è niente non è successo niente qua evitiamo tutte ste cose perché in sostanza che fa che esce il fumo non lo so ecco che fa ecco che fa oddio che è ma affanculo a farmer a farm a farmerama e gli cade la spadona lui ci ripete nordico oro veleno ascia farmer te la tieni tu e te la metti in quel posto là qua c'è una torcia qua c'è una porta fa un pochino di freddo ma noi sopportiamo tutto noi sopportiamo meglio ecco un altro farmer ma perché mi uccide non mi devi spiegare manco se ah è il film oddio questo è buggato questo è buggato però ma io io mi frego il piccone come un cretino però vabbè lasciamolo casomai dopo ci serve vabbè ma che ci serve a che ci vuole servire un piccone chi è oh dov'è sei rintanato ti sei rintanato bellissima questa esecuzione questa è una di quelle che mi piace cuore umano malachite grezza no questo no l'esplorazione però non è che non capisco ah proviamo ad andare sopra si dobbiamo andare sopra si vede c'è la leva allora constatiamo che qui non ci sia qua è aperto allora nucleo no oro si 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 zaffiro si mazza elfica si ascia da guerra orchesca del sifone si stiamo trasportando troppo peso mannaggia la miseria armi e il piccone lo lasciamo la mazza elfica questo non pesano niente questo pesa 25 questo pesa 17 lasciamo questo tanto che questo ce lo portiamo casomai ce lo vendiamo il vestiario va bene il vestiario va bene il vestiario va bene il vestiario va bene il vestiario questa la ascia la va vabbè possiamo andare e possiamo scendere giù ponchi ponchi qui nelle casette non c'è oh un baule rimaldello grazie dio grazie di esistere strano che non ci sia qualcuno che mi attacca di solito c'è sempre qualcuno che mi attacca lo sapevo lo sapevo bello bello ah sei caduto mi è mancato mancato sei un po' lento ah centurioni centurioni ma che sei un centurione sei un centurione bello cado giù e mi faccio non mi faccio niente ah centurio centurio ha placa placa delira ha placa placa centurio sto qua centurio oh mamma questo questo è un attacco di questo mi stende ma questo non va oddio che è che è stato che mi ha fatto a centurio dai centurio sali che ora te faccio ah bello centurione mio bello watari watari e guardate che esecuzione un'esecuzione con la mazza elfica che poi gli da un pugno e cade per terra frecce di vetro mamma che belle chiave per l'elevatore granato grande asta piccolo rubino il rubino ce lo fottiamo perché da bravi questo qui che troviamo frecce figa ametista gemma leva rubino anche questi qua la loro alimentazione è rubino vanno a rubino qui dentro che c'è non c'è niente si ma io quando livello giusto per curiosità e ancora ce ne vuole qui ci deve essere qualcosa e invece non c'è niente nel baule semplice e va fanculo aperto qui non si va si deve andare di qua oddio non mi spinge strunz ok vai uccidetevi tra voi il restante sulla trebutris umana le donne dicono sempre così sarà divertente vai uccidetevi più forte rissa oh a dove vai umana te ne vai guarda che che puttana che sei che io ho fatto l'esecuzione no questo è un mago corazza no è un imperiale che ci fa con imperiale questo era un umana quando attacchi con lo scudo infilice tre punti danno da sanguinamento per cinque secondi a noi a noi ci fa un baffo di pippa qua cerca nel baule oh oh arco oh cazzo arco di vetro questo me lo frego mazza di ferro del torpore infilice non mi ricordo ah l'arco arco arco nonico glaciale arco di vetro ah mettiamo questo si vai mettiamolo e questo vabbè teniamolo qui dobbiamo oddio oddio ma vaffanculo aspetta aspetta oh voglio andare a vedere qua che c'è ah ok apri skyrim ok oh oh black rich ciao